Buongiorno, Marzio Sala, presidente di Affinity Dog. Quest'anno è molto importante per Affinity Dog perché compie dieci anni di attività e vogliamo festeggiare con te questo traguardo. Affinity Dog nasce dalla mia passione per i cani e per la cinofilia, dalla mia voglia di migliorare il rapporto uomo-cane, unendo a tutto ciò l'interesse scientifico verso la comunicazione e il linguaggio del cane. L'ho fondata per mettere a disposizione la mia conoscenza della mente del cane, delle tecniche di addestramento e di educazione del cane maturata con lo studio e con il lavoro. Per rendere possibile tutto ciò mi avvalgo della collaborazione dei migliori professionisti sul mercato. Oltre alla passione è nata una professionalità completa che ci porta ad un miglioramento continuo. In questo modo posso aiutarti a conoscere meglio il tuo cane e a sviluppare una relazione perfetta con lui, offrendoti tutte le soluzioni giuste per ogni necessità e le informazioni necessarie per comprendere i suoi bisogni. La mia formazione negli anni non si è limitata al mondo del cane ma ha spaziato in tutti gli ambiti della comunicazione, della psicologia, della PNL e della didattica per poter migliorare sempre di più i servizi offerti. Ciò ha permesso di ampliare la struttura iniziale in un comparto formativo che è presente su tutto il territorio nazionale. Affinity Dog oggi propone corsi di educazione del cane singoli di gruppo, corsi di educazione svolti a domicilio, formazione one to one per neoeducatori cinofili che vogliono migliorare la loro professionalità e corsi per diventare educatori cinofili riconosciuti dal CONI. Ad oggi abbiamo un approccio multidisciplinare che ci permette di soddisfare tutte le richieste delle persone che si rivolgono a noi. Spero che questa presentazione vi sia piaciuta e se volete conoscerci di più seguiteci sui nostri canali social mettendoci anche un like sui video. Grazie.